e si divertono anche insieme, però qui non ci si diverte, anzi in realtà Luigi di solito racconta sempre che si diverte molto mentre combatte e beh devo dire che se non è questa poi la motivazione principale per cui fare karate o fare sport non so quale altra possa essere perché prima di tutto ci deve essere comunque questa la gioia di fare il proprio sport e questo è quello che porta Luigi Busà che ci dimostra a tutti noi l'amore, la gioia, la passione per il karate per tutta la dedizione che ha dato in tutti questi anni in questa lunga e ricca carriera del nostro grande capitano il nostro Gorilla d'Avola che ancora una volta è qui a giocarsi una super finale per la vittoria alla Premier League e per tutti i grandi appassionati, beh appunto questa super sfida tra i due nemici amici è imperdibile intanto siamo partiti, prima sanzione per Raffaella Gaev per trattenuta forza Gigi uh attenzione che rischio parte Gigi e prova ad anticipare poi di gamba ma non va Raffaella Gaev vedete quanto rispetto comunque c'è tra i due che insomma non si fregano a vicenda nei momenti magari morti, in quel senso lì vedete che primo scontro, sono andate subito la mano e si riparte che bello vedere poter avere due bandiere come queste e una di queste poi è italiana la nostra bandiera, il nostro Luigi Busà che portano in alto tutto ciò che di bello c'è nel karate, nel mondo insomma non vedo l'ora di poterli vedere entrambi a Tokyo 2020 entrambi sono virtualmente qualificati ancora stanno attendendo gli ultimi punti poi il ranking verrà chiuso il 31 marzo ma io sono certa che questi due grandi atleti li rivedremo e sarebbe bello se l'eterna sfida tra i due si potesse concludere proprio a Tokyo in finale tanto eccolo qui inquadrato di spalle seduto sul nel box coach vediamo Claudio Guazzaroni grandissimo coach della Nazionale Azzurra che da sempre segue mamma mia Luigi Busà Luigi Busà no ma come io vedo solo una bandirina rossa come due blu no dall'inquadratura dall'inquadratura che avevamo noi si vedeva nettissimo il punto di Luigi Busà infatti giustamente Claudio Guazzaroni alza e richiede la video review e beh è punto è punto non può essere negativo questo è positivo positivo è peccato aver dovuto utilizzare anche la video review per poter segnalare questo punto che era nettissimo si vedeva anche in velocità quindi uno pari per tra Luigi e Raffaele come se non fosse successo niente praticamente perché come se fossero su un l'ipotetico 0-0 insomma qua davvero sono in parità assoluta manca quasi un minuto al termine intanto la video review la richiesta viene riconsegnata nelle mani di Claudio Guazzaroni visto che l'esito è stato positivo forza GG grazie Tanto arriva la sanzione per passività per entrambi. 25 secondi al termine. Forza Gigi. Non può finire così in parità. Forza Gigi. Fuori Rafaela Gaev. Fuorissimo. È uscito fuori con il braccio. Questo è punto di Luigi che si porta sul 2 a 1. Ha fatto cenno Rafaela Gaev al proprio coach, ancora una volta, anche se non si potrebbe, lo ricordiamo, per la richiesta. Infatti è negativo. Come vi dicevo, il braccio è andato oltre al viso di Luigi Busai. Era nettissimo. Anche questo ha fatto molto bene. Gli arbitri a non assegnare il punto e anche la video review l'ha confermato. Vantaggio per Gigi. Vedete anche il pallino verde. C'è lo Senshu per lui. Prova il tutto per tutto. Adesso accelera Rafaela Gaev per tentare di vincere. Ci sono un paio di scontri a distanza ravvicinata. E infatti va a lamentarsi. Più che va a lamentarsi l'arbitro, va a controllare Luigi Busai. E Luigi Busai segnala di non c'è contatto. C'è spinta, no? Perché continuava a restare attaccato. E poi ha spinto lui. Infatti ecco qua che viene segnalato e viene sanzionato Rafaela Gaev. Wow! Questo Ciudan! Non ci credo. Non ci credo. Incredibile ragazzi. Mamma mia che finale. Il Ciudan porta tutto. Cambia tutto. 3 a 2 e manca un secondo. Incredibile ragazzi. Incredibile. Gigi riesce a regalarci emozioni sia in positivo che in tutto proprio. ci fa urlare tutte le volte. Adesso c'è la video review richiesta ma immagino un po' giusto per tentarla perché giustamente avendo lo sensu Luigi Busai sperando in un eventuale pareggio che ovviamente non arriva perché non c'era una tecnica pulita per cui fare la richiesta. Quel Mavashi Ciudan ragazzi ha cambiato tutto. Infatti guardate mani in faccia, mani nei capelli per Luigi Busai. Come a dire incredibile che ho preso questo Mavashi Ciudan. Dall'altra parte incredibile come Rafaela Gaev riesca sempre a trovare. Guardate che bello questo momento ragazzi. Guardate che bello. Come vi dicevo all'inizio, amici e amici ma che rispetto. Un rispetto enorme da parte di entrambi. Un'amicizia che comunque li lega tutti e due. Lo sanno che cosa davvero vuol dire. Sacrificare la vita per un proprio sogno. Per uno sport che davvero ami da quando sei piccolo come il karate. Uno sport che tante volte non ti ripaga come dovrebbe. E sono proprio queste medaglie, questi successi che poi ti danno la soddisfazione di andare avanti. Ti ripagano. Non ci sono soldi, non ci sono lussi che tengano purtroppo in questo sport. Spero che un giorno ci potranno essere. Ma per ora ci sono solamente le medaglie. Luigi Busani ha vinte tante. Raffaella gave anche vedere una finale come questa. È davvero emozionante. Quindi grazie davvero a tutti e due per quello che date e continuerete a dare al karate. Noi non vediamo l'ora di poter vedere e vedervi tutti e due a Tokyo 2020. Perché avreste davvero tanto da poter mostrare a tutto il mondo in quel periodo in cui tutti gli occhi sono puntati sugli sport cosiddetti minori. E che riusciate un giorno a poterlo fare davvero diventare grande.